Sono Pinaurelli? No! Sono Pinaurelli? No, no! Questa qua è M&M Ciao! Ciao, ciao Otto Murini! Mini Pinaurelli! Ciao signora! Mastocchi! Mini Pinaurelli! Mini Pinaurelli! Mini Pinaurelli! Mastocchi e... Ma il Mastocchi li faceva motocicatori no? Alfonso Murini, lavorava con questi vaguti? Era demiso? il fatto 6 metri è una via per via del globo e il chimico no, non lo deve fare qualcosa come morire, il morire no, no, non, non, non andiamo a lavorare solo, due a la tua moglie e due a la tua moglie due a la tua cosa che c'è? 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 c'è tanta patente preparala nel careto perché tanta patente tantos il lavato del careto che metti morto suり caretona азывare di che invece è una altezione prova me ha brittle Otter Cruze qui va a essere da dove hai detto quella o c'è croce